L'Igham, l'associazione italiana Gordon per l'apprendimento musicale, lavora su tutto il territorio italiano per lo sviluppo dell'attitudine musicale nei bimbi. L'unica associazione ufficialmente riconosciuta, nonché presidenziata dal professor Gordon, è presente sia in territorio nazionale che all'estero con numerose attività per la comprensione della musica giocando. L'associazione in collaborazione con Musica Re, centro di attività musicale per l'infanzia, è stata presente a Ferrazano con uno spettacolo riservato ai bambini, dai 3 ai 6 anni. Un concerto laboratorio di scena, che ha visto come unici protagonisti i bambini, impegnati giocando in un percorso educativo che ha dimostrato come una disciplina così delicata quale la musica possa essere sviluppata anche nei più piccoli con estrema importanza. L'AIGAM, associazione accreditata dal Ministero della Pubblica Istruzione, contribuisce con la sua didattica allo studio dell'attitudine musicale, del pensiero musicale e del suo sviluppo da parte del bambino, dei meccanismi che sono alla base dell'improvvisazione musicale, allo studio del movimento e del senso ritmico. Grazie. Grazie.